Ciao, sono Miriam e con Pillole in Rete voglio presentarvi MusicRaser, una piattaforma di crowdfunding interamente dedicata alla musica. Che cosa vuol dire crowdfunding? Letteralmente finanziamento dalla folla. In pratica è una raccolta fondi che avviene online tramite una rete di contatti. MusicRaser è un sito dove artisti o tutte le figure che lavorano nel mondo della musica possono aprire un progetto di raccolta fondi e in due mesi di tempo realizzare il proprio sogno. Vediamo insieme alcuni progetti di successo. Hola gente, soy Julián. Ciao a tutti, io sono soltanto... Hello everybody, my name is Casey Chandler, a.k.a. Galapagos. Io mi chiamo Leiany. Hi, hello from Georgian Caldwell. Ciao, sono Barbara Cavalieri. E' la nuova maniera di vivere la produzione. La dischera è la gente, come dice Calle 13. Oltre 300 Razer, più di 10.000 euro. E' just recently funded my second album due out of a few weeks, Dandelion. Mà di 5.000 euro per la produzione del nostro disco. We just finished a successful MusicRaser campaign. We reached 115% of our goal. Grazie a MusicRaser ho realizzato la raccolta fondi per il mio disco. Thank you very much. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Grazie. MusicRaser.com Come fare a diventare uno di loro? Basta fare un click sul sito MusicRaser.com, inviare un progetto e appena verrà approvato lo staff vi ricontatterà immediatamente. Per fissare un obiettivo economico e realizzare ricompense da offrire a chi vi sosterrà economicamente. La nostra filosofia è tutto o niente. Se raggiungerai l'obiettivo o lo supererai, la campagna avrà avuto successo e riceverai la somma raccolta. Se non raggiungerai il tuo obiettivo e cioè il 100%, non succederà nulla. Non dovrai pagare nulla, MusicRaser non guadagnerà nulla e i tuoi sostenitori saranno rimborsati. Quindi il tuo rischio è pari allo zero. Trovate tutto e di più sul sito MusicRaser.com oppure cercatemi qui allo stand della web tv di Sherwood. Ciao a tutti e buon festival!